Non basta il tredicesimo gol di Santiago Minella al notaresco per aggiudicarsi tutta la posta in paglio a Martorano contro la Savignanese. Formazione annunciata quella di Mister, Cudini obbligata a riscattare l'opaca prestazione di domenica scorsa contro l'Avezzano. C'è il solito blando in fase di regia, il reparto avanzato è affidato a Minella, Moretti e Laringe, Assenti, Rucci, Fiscaletti e Mozzoni. La Savignanese, prima squadra a dare un dispiacere alla truppa di Cudini in campionato, non perde dalla sfida casalinga con il Francavilla e si schiera con il 4-2-3-1 con Manuzzi al centro dell'attacco, arbitra Marco Pelletti di Crema. Subito in palla la squadra di casa che al terzo minuto ci prova dalla distanza dopo un errore di impostazione del notaresco ma il tiro di Manuzzi Riccardo finisce di poco alto. Pressa alto la squadra Romagnola che al tredicesimo ci prova ancora con Brighi ma il tiro dal limite non inquadra lo specchio della porta di Monti. Un minuto più tardi si sveglia il notaresco con Bomber Minella ma il suo tiro dal limite dopo la sponda di Moretti fa la barba al palo. Si fa vedere ancora il notaresco al ventesimo con Larinci che riceve bene da Moretti ma sul secondo palo il numero 7 in acrobazia conclude debolmente. Ma il preludio al gol che arriva un minuto più tardi con Minella, errore in uscita della squadra di casa con Moretti che ne approfitta e con un cross al bacio pesca Minella al centro dell'area ed è bravo a stoppare e trafiggere centralmente Pazzini per il tredicesimo gol personale. Non tarda ad arrivare la reazione della Savignanese al ventottesimo con Succi che riceve da calcio d'angolo ma il suo tiro viene respinto da Monti sul facile tapin fermato in fuorigioco Manuzzi. La partita vive una fase di stallo alla mezz'ora ma al quarantesimo si fa vedere in avanti la squadra di casa con Peluso che servito in profondità viene murato in angolo da Capitan Salvatori ma sul finire del primo tempo c'è una mischia in area romagnola con Laringe che viene fermato da Pazzini e poi sulla ribattuta Moretti viene murato in angolo sul corner e Minella concludere di poco a lato. La ripresa si apre subito con un cambio per il romagnone con Rossi che lascia il campo a Battistini. Al quinto in avanti si fa vedere la Savignanese su calcio di punizione Riccardo Manuzzi che con il mancino disegna una parabola pericolosa. Sventa con un ottimo intervento Monti. La squadra di casa preme in questi primi dieci minuti e viene premiata con il gol su calcio di rigore fallo in area di bontà su Vanti. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ad indicare il dischetto della trasformazione se ne incarica Longobardi che angola bene il tiro e pareggia il parziale. Due minuti più tardi però il notaresco ha l'occasione di nuovo per il vantaggio ma tra Laringe e il gol c'è l'ottimo intervento di Pazzini che devia in corner. Premi ancora il notaresco oggi in maglia verde Fluo che va vicino al gol con Candellori che spezza il possesso Romagnolo in mezzo al campo e conclude ma è super la risposta di Pazzini che salva i suoi in angolo. Ancora notaresco al 36esimo con Salvatore che incorna bene da angolo con Pazzini che salva ancora una volta i suoi. Finisce così la gara con un pareggio tutto sommato giusto tra le due compagini con la banda di Cudini che ai punti avrebbe meritato qualcosina in più. Domenica prossima per il notaresco al Savini arriva la San Maurese. Dato tutto squadra forte quindi per fare il risultato devi essere bravo e credo che tutto sommato il risultato sia un risultato giusto e contro una squadra come hai detto te che te la rende difficile fra l'altro veniva da una sconfitta in casa quindi era particolarmente attenta. Le difficoltà erano aumentate visto che eravamo dati in svantaggio e per le caratteristiche del notaresco trovarsi sotto contro questa squadra può essere pericolosissimo perché è una delle squadre più brave a ribaltarti l'azione, a gente che nello spazio è bravissima, a gamba, a qualità. E quindi il fatto di avere pareggiato la partita vale ancora di più quindi questo risultato fatto. Mister Cudini forse ai punti il notaresco meritava qualcosina in più viste le occasioni però siete stati bravi comunque a pareggiare su un campo non facile. Sì, un campo non facile sicuramente perché la Savignanese in casa ha fatto sempre ottime prestazioni e soprattutto ottimi risultati. Poche squadre hanno fatto punti qua, di questo ne eravamo consapevoli e avevamo grosso rispetto. Però poi per come è andato l'andamento della partita, soprattutto qualche occasione che abbiamo avuto in ripartenza nel primo tempo, credo abbastanza chiara, c'è un po' di rammarico perché poi perdere su un episodio, su un calcio di rigore non chiarissimo quindi c'è un po' di rammarico. Però sono contento della prestazione dei ragazzi dopo la sconfitta di domenica in casa con quattro subiti non era facile ripartire su un campo difficile e fare risultato positivo. Sì, per quanto riguarda Liguori sì, tutti siamo contenti perché poi si lavora anche per questo. Quindi quando un ragazzo della propria squadra va in categoria superiore, tutti siamo contenti di questo, gli facciamo un grosso in bocca al lupo. A fine gara abbiamo visto un po' di problemi con i tifosi, che cosa è successo? No, no, assolutamente niente, ci mancherebbe. A noi ci fa piacere perché poi quando la gente li segue è sempre bello, no? È una realtà come Notaresco quindi nulla di particolare. Siamo andati a salutare, sicuramente qualche chiarimento ma nulla di particolare. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo contenti di loro che ci seguono spesso, quindi sia in casa che fuori, quindi assolutamente nessun problema.